io provo a scendere qua e ti pareva ho tutto che combattono andiamo subito a dare supporto ma vieni posidore no è un distrutto che succede? allora andiamo a animare e tiriamo subito c'è qualcuno che spara che tiriamo di granato vabbè intanto rianimo eh c'è qualcosa che non fa con la costruzione oggi ok Grazie a tutti. Bene. Ancora sti mirini del cavolo e basta. Che faccio, che faccio? Non, 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 non. Allora. Dove andiamo? Andiamo qua. Sempre che non ci arrivo qualcuno contro. Andiamo? Grazie a tutti. Vabbè le scatole che fermano la macchina però è patetico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Magari troviamo qualcuno che è da lì e passa qua. Vediamo la banana. Se ci dà uno scudo grande. No, il medic ti fa meglio di niente. C'è un po' di roba per terra. Ecco qui i nemici. Perfetto. Devo fare attenzione qua perché arriveranno tutti adesso. mannaggia quanta roba. C'è qualcosa che posso prendere. Mitraglietta. Salto. Niente. Perfetto. 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 io direi di spostarci ancora perché stiamo trovando nessuno, non vorrei che ci arrivassero tutti addosso, un colpo solo un colpo solo Andrei al mio scout fortuna, va bene, mandami velocissima così si accetta se vuoi giocare, tanto siamo in 3 Quando fai la diretta l'ho di solito tutti i giorni più o meno che sono le 21, ultimamente non le ho fatte perchè sono stato male però normalmente tutti i giorni alle ore 21 per un paio d'ore ecco Prendiamo sta nuova macchina Siamo tutti? No Andiamo a caccia di gente Non ti ribaltare però Vincet, ci sei? Mi sa che hai crashato Forse questo è il sabato, va bene Andiamo a chiudere la zona Io non vedo nessuno, ecco qui stanno facendo dei grandi combattimenti qua, andiamo anche noi Hanno reanimato Hanno reanimato Qui non è finita eh Adesso arrivano gli altri Stanno cecchinando Eccola 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 Andiamo a chiudere Eccola Potere dell'acqua Bene Direi che possiamo continuare Conto tre Conto due Conto uno Sono separati Abbiamo il potere dell'acqua Distruggiamo i veicoli Conto due Perfetto Conto uno ? Bene Conto uno Non so dove sia Andiamo in zone Sì sì certo possiamo giocare Mandami pure un'amicizia e te l'accetto Se poi non vuoi giocare adesso Io sono in diretta Tutti i giorni verso l'evento 1 Ah la base ha fatto quello Ah che beat Ah 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 Grazie a tutti Uh, grande Dov'era? Allora, c'è il spuglio davvero lì? Bene, bella vittoria comunque